La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. L'eccellenza dell'anno, consulenza, gestione, processi documentali. E questa volta il premio va a Business Solution. Un bel applauso per il vincitore di questa categoria, Business Solution, per essere riconosciuta quale realtà di spicco internazionale nella gestione digitale e dematerializzata dei processi legati ai documenti e ai dati, per il costante lavoro di ricerca e ottimizzazione di differenziatori tecnologici, consulenziali e commerciali, fattore strategico per le grandi realtà aziendali internazionali e per le PMI. Davvero complimenti a Business Solution, per anche lo sguardo internazionale, non solo nazionale, che condividiamo con Le Fonti. Complimenti per il vostro premio. A voi e buona serata. Questa sera siamo in compagnia del dottor Valerio Sorbellini, che ci racconterà i valori e gli obiettivi aziendali della Business Solution, società della quale è il CEO. La Business Solution offre soluzioni tecnologiche su misura per le aziende che desiderano digitalizzare i processi interni e i flussi di lavoro. Come operate e cosa vi distingue dai competitor? Mi aiuto con una citazione di Klaus Schwab, che è poi il presidente del Forum Economico Mondiale, che disse che nel mondo nuovo non è il pesce più grande che mangia il più piccolo, ma è il pesce più veloce che mangia il più lento. Noi siamo sicuramente veloci, la nostra caratteristica è proprio quella di capire velocemente le aziende cosa chiedono in un certo momento storico, mi spiego. 30 anni fa le aziende compravano un software, 20 anni fa, 15-20 anni fa hanno iniziato a comprare servizi, software as a service, quindi i primi cloud, i primi servizi. Adesso le aziende comprano un risultato, vogliono solo comprare un risultato, per cui noi quello che proponiamo, basato chiaramente su tecnologie che non sono mai protagoniste, basate su servizi, persone che fanno attività e basate su competenza. Però quello che conta poi è il risultato finale, che raggiungiamo anche grazie alla nostra struttura. Noi siamo organizzati in una formula consortile, quindi abbiamo un gruppo di aziende, siamo Consorzio Sky, di cui Business Solution è quella che rappresenta verso i clienti, le attività commerciali, amministrative e legali e poi abbiamo un gruppo di partner molto selezionati che ci aiutano a raggiungere questi obiettivi. Quello che ci differenzia in una parola, se la possiamo riassumere, è l'approccio alle aziende, quindi questo è proprio il nostro principale differenziatore. Il successo delle vostre soluzioni tecnologiche è dimostrato dal fatto che i vostri progetti spesso superano i confini nazionali. Ci descriverebbe un progetto del quale andate particolarmente fieri? Allora, diciamo, sicuramente noi trattiamo principalmente con grandi aziende. Molti di queste grandi aziende sono anche molto molto famose, quindi diciamo non possiamo chiaramente fare nomi né condurre indirettamente un loro nome, altrimenti potrebbero esserci problemi e poi comunque etica professionale. Quello che possiamo dire è che ci sono due aree di estremo interesse da questo punto di vista, perché sono progetti che sono scalati a livello internazionale e sono di successo. Una è l'area diciamo amministrativa, quindi processi amministrativi, perché l'Italia grazie o a causa diciamo degli obblighi dello Stato siamo diventati diciamo molto esperti nel gestire processi amministrativi, uno fra tutti la fatturazione elettronica, la programma digitale, altri processi che sono diventati obbligatori e che ci hanno reso molto esperti anche agli occhi dell'estero. Per cui ci capita frequentemente che le aziende e i nostri clienti ci chiedono supporto per spiegare diciamo ai vari dipartimenti sparsi in giro per il mondo, dall'America a Nord Europa all'Asia, come facciamo in Italia fare determinati processi digitali. L'altra area molto vivace e che ci ha generato parecchi successi a livello internazionale anche è la gestione del parco auto, che è un settore molto vivace, non nuovo ma diciamo che si è evoluto negli ultimi tempi a causa del covid in poi esploso come attività, un po' perché c'è il tema della sicurezza, del safety, dell'inquinamento, del passaggio al green e quindi tutte queste cose hanno reso molto più complicato da gestire diciamo tutto il parco auto e questo ha generato esigenze di gestione dei processi. Ovviamente essendo tutti i multinazionali questi progetti poi hanno un respiro internazionale, soprattutto nell'ambito della BI abbiamo dei progetti di notevole successo perché la BI, cioè la business intelligence, è qualcosa che permette di gestire, di aggregare e gestire i dati diciamo di una determinata divisione aziendale. A livello internazionale questo è molto utile perché va ad aggregare i dati di vari paesi e quindi queste sono due aree che sicuramente su cui abbiamo fatto dei progetti molto interessanti. Ora passando al futuro, che obiettivi volete raggiungere nei prossimi anni e in quali settori in particolare? Allora, nei prossimi anni sicuramente la grande scommessa è specializzarsi sempre di più nell'area amministrativa perché comunque grazie al cielo diciamo tutte queste imposizioni ci renderanno diciamo anche molto lavoro negli anni futuri quindi ci specializzeremo sempre di più in quella parte anche perché è il nostro core business. sicuramente punteremo a rendere sempre più internazionali i nostri servizi nell'area del fleet management quindi l'internazionale è il nostro obiettivo principale per questo settore e poi chiaramente abbiamo l'Industry 5.0 che è un'altra area diciamo di nostro interesse soprattutto nel medio e lungo termine perché è il futuro diciamo delle evoluzioni delle aziende in ambito digitale, in ambito sostenibilità, in ambito formativo per le persone quindi stiamo puntando molto anche su quello. Questa sera la Business Solution ha ricevuto l'award delle fonti per la posizione di eccellenza nel campo della consulenza e della gestione dei processi aziendali cosa rappresenta per lei e per il suo team questo riconoscimento? Effetto wow innanzitutto perché bene, ottimo risultato. Intanto ringrazio la redazione e la vostra organizzazione perché sicuramente è un riconoscimento molto prestigioso però devo dire che ribalto subito questo riconoscimento sul mio team su quello che lavora per Business Solution direttamente e indirettamente anche perché noi operiamo presso clienti in maniera molto diretta per cui le nostre persone che selezioniamo con grande cura che le persone diciamo vanno bene se sono selezionate bene cioè per il giusto ruolo e se poi sono gestite bene quindi l'ingraziamento va a queste persone che hanno una dedizione e una motivazione eccezionale e a tutti i collaboratori indiretti perché noi siamo un gruppo di aziende come dicevo prima che lavorano insieme a noi per raggiungere il famoso risultato queste persone non esisterebbe questa serata da parte nostra ovviamente il riconoscimento a noi e ovviamente non esisterebbe neanche Business Solution, il CEO eccetera per cui questo è sicuramente il ringraziamento che rivolgo al nostro team e a voi grazie